Questa oggi ha in assi di partenza finalmente le case dell'acqua anche a Cava, in una conferenza stampa l'assessore all'ambiente Fortunato Palumbo ha ufficialmente dato il via a questa operazione che avrà un ottimo risultato per la città. Certo, diciamo che come ho ben spiegato poco fa in conferenza stampa noi posizioneremo tre case dell'acqua, di queste tre due purtroppo sono in zona sottoposta al vincolo paesaggistico quindi ci vorrà un poco più di tempo, la terza è già diciamo che massimo massimo forse per fine junior riusciamo a inaugurare già la prima casa dell'acqua, le altre due bisognerebbe aspettare un poco più di tempo. Ovviamente questo è un grande successo di questa amministrazione quindi è un'ottima cosa perché poi ai cittadini sarà fornita una tessera dove ricaricare. Voglio specificare che l'acqua costerà 5 centesimi al litro sia per l'acqua liscia, la gassata che la semigassata. Quindi è un risparmio notevole per le famiglie e grazie a questa amministrazione si incominciano a vedere i risultati del lavoro fatto da tutta questa amministrazione. Diamo un po' anche di istruzioni per l'uso a questi punti di distribuzione dell'acqua, si potrà accedere pagando una tessera che poi andrà a scalare il proprio valore ma soprattutto si potrà avere acqua che l'acquedotto distribuirà ovviamente trattata. Trattata sì, ovviamente trattata quindi saranno eliminate le impurità, questa è la cosa essenziale e oltretutto queste acque trattate con carboni attivi sono acque pure.